Siamo a Livorno con l'assessore Ceccarelli, torna dopo essere stato già qui per l'inaugurazione del terminal d'Arsino Ovest a dicembre. In quell'occasione disse che il porto Livorno cambiava passo grazie anche alla regione toscana. Oggi è qui per un altro investimento, sempre per lo sviluppo del porto. Sì, un'altra occasione attettanto importante. Questa volta l'investimento non è un investimento pubblico ma è un investimento privato, però il fatto che si coniugano investimenti pubblici come quelli fatti dalla regione, l'autorità portuale, l'AFS, il Ministero che hanno consentito di avere il collegamento diretto tra il porto di Livorno e la rete ferroviaria italiana ed europea in maniera diretta, cosa che fa del porto di Livorno uno dei primi porti ad avere questa opportunità. Il fatto che si stia andando avanti con la progettazione dello scavalco per unire il porto con l'interporto di Guasticcia e quindi valorizzarne la vocazione di retroporto, perché questo è quello che avverrà in futuro. Il fatto che sia stato fatto il bando per quanto riguarda manifestazioni di interesse della Darsena Europa è un fatto importante che fa del porto di Livorno un porto infrastrutturato e quindi largamente attrattivo e competitivo per il suo sviluppo e per lo sviluppo della costa e della Toscana. Se a questo si uniscono anche investimenti importanti come quello che vediamo oggi, oltre 2 milioni per la bonifica, per la messa a norma di questi magazzini, significa che il pubblico ma anche gli operatori privati stanno scommettendo sullo sviluppo di questo porto. E questo è un bel segnale di cui noi come Regione siamo orgogliosi, perché abbiamo speso molto del nostro peso politico istituzionale, perché il porto di Livorno potesse ripartire con il suo sviluppo e fa piacere vedere che anche gli operatori privati stanno assecondando questa direzione con investimenti altrettanto importanti. Un'altra cosa che le sta molto a cuore a lei personalmente ma anche alla Regione è la sua strada tirrenica, un'altra cosa che risolverebbe tanti problemi anche se poi c'è qualche sindaco che ogni tanto ha delle obiezioni da fare. Sì, però diciamo che ognuno svolge la sua parte, l'importante è trovare poi momenti di collaborazione e di sintesi, mi sembra che anche in questo caso li stiamo trovando, è chiaro che ognuno è legato alle sue sensibilità e alle sue rivendicazioni, però per quanto ci riguarda è chiaro che la tirrenica è una infrastruttura per noi strategica, lo dicono i nostri atti di programmazione, lo ha anche per il Governo. Credo che siamo arrivati ad un punto dove effettivamente anche con le migliorie che possono essere apportate a questo progetto con le segnalazioni del territorio possiamo arrivare ad una sintesi e finalmente a dire che si può andare alla progettazione esecutiva di un'opera che è da troppo a lungo attesa. Noi stiamo lavorando per questo, lo vogliamo fare per quanto possibile ascoltando il territorio, è chiaro però che poi una decisione va presa perché questa è un'infrastruttura che a nostro avviso va fatta. Grazie mille, grazie.